Buonasera a tutti, io non sono così bravo come Paolo o come i nostri ospiti a braccio, però mi sono preparato una piccola introduzione, non dati per il comune di Sant'Orso, perché questa sera, come diceva anche lui, siamo qui per ascoltare, un'introduzione generale. Il tema dell'ambiente, e in questo caso specifico dei rifiuti, è centrale nella nostra comunità. È per questo che questa sera ci ritroviamo per discutere ancora una volta il consumo critico, riciclaggio e rispetto per l'ambiente. Il rispetto per l'ambiente e l'amore per noi stessi e il territorio devono spingerci sempre più consapevolmente verso atteggiamenti virtuosi nel campo della produzione, gestione e smaltimento dei rifiuti. Perché siamo noi singoli cittadini che compriamo beni, produciamo rifiuti e decidiamo come eliminarli. Credo anche che la cultura del risparmio, del consumo critico, del riciclaggio dei materiali e della raccolta differenziata sia un obiettivo sempre più doveroso a partire dai più piccoli, dai bambini che molto spesso su questo tema sono molto più sensibili e spontanei di noi adulti. Questa serata ci darà l'opportunità per un confronto e per avere nuovi stimoli per il futuro, sia dal punto di vista dell'amministratore sia dal punto di vista del singolo cittadino, prendendo spunto dalle esperienze positive e dalle strategie messe in campo dai nostri ospiti nei loro comuni di Cappannori e di Ponte nelle Alpi. Ringrazio per la loro presenza gli assessori Alessio Ciacci e Ezio Orzez. Grazie, buonasera. Grazie. 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 Grazie.